Non si perdono d'animo dal terzo polo lucano, nessuno dei candidati è stato eletto come è noto, ma si guarda al bicchiere mezzo pieno perché è emerso dalla conferenza stampa potentina a cui ha partecipato anche il candidato Marcello Pittella. Il risultato di Italia Viva Azione è stato il migliore in Italia, una cosa che ben depone per le prossime elezioni amministrative e che fa pensare alle prossime regionali del 2024. Se un partito come il mio ex voleva completamente rottamarti e pensionarti cacciandoti fuori, rimettersi in gioco e recuperare la percentuale più alta in Italia significa riprendere una centralità all'interno della nostra regione. Poi ancora sulle politiche, alla base della sconfitta elettorale della PD dice c'è una mala gestio, hanno gestito le candidature come un affatto privato e personale, uccidendo la democrazia e disconoscendo il territorio. Al posto di Letta ha concluso Io mi sarei dimesso immediatamente. Poi sulla sua fuoriuscita dal PD. Il portato che noi abbiamo messo in campo insieme a Donato Pessolano come azione e Italia Viva è a disposizione di un largo luogo politico che si candida a guidare la regione. Proveremo a giocare una partita importante per le regionali. Mi sembra che il risultato ottenuto la dice lunga. Soddisfazione ancora per il risultato raggiunto da parte del coordinatore regionale. Abbiamo fatto un lavoro straordinario in 20 giorni. Abbiamo raccolto 30.000 voti. Siamo la prima regione in Italia a raggiungere il risultato più alto. Non abbiamo raggiunto l'elezione al Senato, però siamo soddisfatti perché è un risultato che ci hanno dato i cittadini che ringrazio e che ci hanno votato. Continueremo così perché il progetto è avviato e si apre a tutti i riformisti e liberali, ai cattolici e a tutte quelle persone del mondo civico che vogliono stare con noi per le prossime sfide.